Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Questo video è in occasione dell'ultimo movimento, diciamo così, che Bitcoin sta avendo a rialzo, ma come avrete visto dal titolo io vado un po' contro tendenza, diciamo così. In realtà non sono affatto contro tendenza, come vi spiegherò tra poco, ma seguo quanto più il trend cosiddetto primario, ovvero il trend di lungo termine. Non voglio anticiparvi troppe cose perché tra poco, per l'appunto, facciamo un'analisi approfondita della situazione attuale, quindi alla luce degli ultimi movimenti, alla luce del quadro generale, su Bitcoin e su un paio di principali altcoins, giusto per fare un po' il punto e soprattutto non cadere vittima del facile entusiasmo, mi raccomando, perché qua sento già urlare Golden Cross, Bull Market, parole a caso, ma cerchiamo di contestualizzare. Quindi seguitemi e andiamo a dare un'occhiata ai grafici, che però prima di guardare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei contenuti ed i miei video, cortesemente lasciatemi un like a questo video in modo che io possa rendermene conto, esservene grati ed essere anche un po' gratificato e incentivato a continuare a produrre. Iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanellina attivando tutte le notifiche dei miei video per rimanere sempre sul pezzo e non perdervi nemmeno un'analisi. Detto questo, parliamo proprio dell'analisi di oggi. Ho pubblicato oggi stesso su Facebook un'analisi che in breve dice quello che vi dirò tra poco in maniera un po' più approfondita, dove appunto andavo a delineare la mia intenzione, che già vi ho anticipato in verità negli scorsi video, quindi non è una novità, questo è soltanto un suo aggiornamento, la mia intenzione è appunto di aprire una posizione short su quest'ultimo movimento, sempre che raggiunga naturalmente i miei target. E dopo quest'analisi subito in molti di voi mi hanno scritto ma come mai, ma sei fuori, golden cross, bullish hype, di qua e di là, e io ho cercato ovviamente di argomentare, ed è la cosa che ho intenzione di fare anche adesso, così che tutti quanti possiate avere chiara l'idea che ho io in testa. Poi chiaramente il mio non è un intento di volervi far replicare le mie posizioni, perché ognuno deve avere la sua di strategia. Io vi mostro qual è il mio intento, quindi come vedo io la situazione e con che cognizione ho agito, quindi non semplicemente a caso ma con una logica ben precisa. Innanzitutto, vabbè, visto che si parla ormai ovunque di golden cross senza scrupoli, che cos'è la golden cross? È un incrocio a rialzo di due medie mobili, solitamente una breve e una lunga, chiamiamole così, e quali? In realtà non c'è un quali perché ognuno usa le sue, in questo caso si parla della 50 e della 200 su time frame giornaliero, in verità poi è tutto a discrezione dell'analisi in questione, però in quello che sta succedendo è che stanno per incrociarsi a rialzo appunto le medie mobili 50 e 200. Tuttavia, cosa significa questo? Secondo me, di fronte ad evidenze di altro tipo come quelle che vi voglio mostrare oggi, non significa assolutamente nulla. Ci sono delle circostanze in cui gli indicatori, gli oscillatori, le medie mobili hanno un significato e altre in cui invece non ne hanno assolutamente, come secondo me questo caso. Quindi magari è vero che qualche bot, qualche sistema automatico potrebbe essere triggerato dall'incrocio rialzista delle due medie mobili, ma magari anche no, insomma, sono tutte condizioni basate su se, ecco, quindi basate su ipotesi che non per forza si devono verificare. Detto questo, vi presento quello che per me è il quadro generale del mercato attuale e come intendo operare io e per quale ragione. Allora, qua vedete già la solita panoramica delle posizioni che ho in mente di aprire che già dovreste conoscere se avete seguito le mie analisi precedenti. Ve le rimotivo e aggiorno appunto con gli ultimi movimenti, con le ultime novità. L'ultima novità è il breakout da quest'area di consolidamento che ha fatto Bitcoin oggi. Vedete che ha tracciato un higher high sul giornaliero rispetto a quest'ultima zona appunto di consolidamento. E quindi, insomma, ci sono anche volumi in sostegno che ovviamente non sono paragonabili al primo breakout per ora, quantomeno, ma sono stati sufficienti appunto a bucare quest'area di liquidità e a spingere sopra alla resistenza dei 5.500. Quindi il target successivo è proprio questa zona che io ho definito short zone. Al tempo tutta l'area rossa la definì short zone, proprio perché era il target, a una primissima e blandissima analisi, del movimento rialzista che sarebbe potuto scaturire appunto dal breakout di questo consolidamento vicino ai minimi. Ne avevamo parlato in maniera sufficientemente esaustiva tempo fa, quindi non è neanche necessario ritornarci. Attualmente si possono delineare delle zone più precise e sono esattamente questi due i suoi estremi, per quanto mi riguarda. Cos'è che ci fa delineare delle zone più precise? Il fatto che in primis il primo impulso già ha raggiunto e sfiorato quella short zone, quindi abbiamo capito che c'era voglia di entrarci dentro. E di conseguenza valeva la pena non tanto andare a guardare gli estremi inferiori di questa short zone, ma andare a guardare quelli superiori, perché abbiamo capito che di forza rialzista ce n'è in gioco e tanta. Gli estremi superiori, io solitamente, faccio un passo indietro, io solitamente supporti e resistenze li analizzo sempre su time frame settimanale, perché è quello che empiricamente mi ha sempre dato dei valori, dei livelli più significativi. In questo caso quindi abbiamo due aree che per me, due livelli anzi esattamente, che per me sono più significativi degli altri ed includono gli estremi di questa short zone, diciamo così, più definita, più dettagliata rispetto a tutto il rettangolone rosso. Questi due livelli sono, in basso abbiamo 5830 circa, e in alto abbiamo 6130 circa, quindi questo intervallo qui è quella zona che secondo me andremo a targettare, diciamo così, a bersagliare con questa onda rialzista, sempre che abbia sufficiente vigore per arrivarci, perché non è detto neanche quello, ovviamente di certo non c'è mai nulla. Tuttavia, quest'area che cosa corrisponde? Corrisponde al vecchio supporto, se vi ricordate, che è stato testato tantissime volte, vedete, durante la prima fase del downtrend, durante questo grossissimo triangolo ribassista che è nato dai massimi assoluti, e appunto ha avuto come ostacolo inferiore, fino naturalmente al breakdown avvenuto in novembre dell'anno scorso, proprio questa zona, vedete che l'abbiamo testata svariate volte, con shadows e con la chiusura delle candele l'estremo superiore, quindi la logica, vi ho già detto, con cui ho scelto questi due livelli è estremo inferiore, a parte questa chiusura settimanale, le shadows che vedete sono arrivate fin lì più e più volte, estremo superiore, chiusura delle candele, quindi io in maniera totalmente arbitraria, perché la cosa che insomma c'è da memorizzare, da portare a casa, che l'intervallo per me era questo, però naturalmente se uno vuole aprire posizioni non è che può dire intervallo a caso, deve decidere dei livelli di prezzo, e quindi io ho deciso in maniera appunto arbitraria, lato mio, di aprire la posizione short al 70% sui 5830, e al 30% sui 6130. Posizione short per quale ragione? Non perché sono matto, ma perché, vedete, io vedo di solito la maggioranza delle operazioni, le cerco di aprire lungo il trend primario, ovvero il trend di medio-lungo periodo. Il trend di medio-lungo periodo lo vado ad esaminare è considerando il time frame settimanale, esclusivamente quello, che per me è il giusto mezzo tra un time frame lungo e un time frame breve, non è né troppo da una parte né dall'altra, quindi dà un'idea molto chiara di quello che sta accadendo. Sul time frame settimanale vado a vedere il trend in atto, ma non guardando indicatori strani, medie mobili, ok, ma guardando semplicemente gli highs e i lows, quindi i massimi ed i minimi. Se i massimi e i minimi sono decrescenti, sono in downtrend, quindi per me l'andamento è ribassista. Al contrario, se i massimi e i minimi sono crescenti, l'andamento è rialzista, è veramente semplice. Se ho una condizione intermedia, quindi magari minimi costanti e massimi decrescenti, è un consolidamento a sfondo ribassista. E viceversa, se abbiamo dei massimi costanti e dei minimi crescenti, come in questo caso, nonostante sia una cosa particolare e lo vediamo dopo, abbiamo un movimento invece di consolidamento a sfondo rialzista. Lo vediamo subito, anzi, perché è una cosa particolare? Perché in realtà dobbiamo contestualizzare dove sono i massimi e i minimi, perché qui stiamo andando ad aprire una scala superiore. Vedete? Si vedono anche sul time frame settimanale, però ricordiamoci che il massimo precedente si trova qua. Ma questi non contano ovviamente come massimi dei movimenti su time frame settimanale, perché vedete bene che invece questo è molto più marcato. Questo è un tutt'uno, diciamo, è come se fosse un unico low. Vi ho fatto questo esempio soltanto invece appunto per vedere il pattern, come si sviluppa, il discorso degli highs e dei lows. Quindi, che cosa si può dedurre da qui? Si può dedurre che abbiamo una fortissima fascia di liquidità, insomma, imponente, nella quale ha svolto la funzione di supporto molto forte, perché è stata testata più e più volte, prima del breakdown con catastrofici risultati. E non è mai stata ritestata dal basso. Quindi, la situazione di support to resistance flip, quindi l'inversione di ruolo, di una zona di prezzo da supporto a resistenza, spesso e volentieri viene confermata da un tocco dal lato opposto. E inoltre, tanto più un supporto era forte, quanto più al primo test diventa una resistenza forte. Quindi, in questo caso abbiamo un supporto fortissimo, mai testato, e quindi c'è da aspettarsi un sacco di selling pressure in questa zona, proprio perché first test, best test, si dice in inglese, il primo test che viene rieseguito su un supporto flipato a resistenza, o viceversa, è il test che ha la maggioranza di probabilità di fallire, oppure di avere successo, nel caso in cui io voglia prendere una posizione, per l'appunto concorde a quella direzione. Quindi, ricapitolando, qui abbiamo un downtrend attualmente in atto, su time frame settimanale, perché non abbiamo ancora avuto higher highs e higher lows, chiaramente. Questo non vuol dire che non può succedere, attenzione, qua ci arriviamo dopo. Abbiamo una fascia di supporto, flippata resistenza, mai ritestata dal basso, che secondo me è un'ottimissima, perdonatemi l'esagerazione del superlativo, opportunità di short, questa nella mia, chiaramente, visione. Una situazione di questo tipo, ai miei occhi, mette assolutamente in secondo, se non terzo piano, tutto il resto, che possono essere medie mobili, RSI e quant'altro. Insomma, una situazione di questo tipo, a me fa venire voglia di entrare short, proprio perché abbiamo una posizione, lungo trend primario, e un entry level, che ha una significatività pazzesca. Tra l'altro, più il time frame è elevato, in questo caso è settimanale, più la significatività del supporto o resistenza, al primo test dopo l'inversione, aumenta, e quindi direi che qua, abbiamo tutte le carte in regola. Ritornando al movimento, scusate, al time frame giornaliero, molti mi hanno detto, ma sei fuori, guarda che è da dicembre, che abbiamo dei minimi crescenti. È vero, però ricordiamoci che questo movimento qua, è un movimento che va contro trend per adesso, quindi fin tanto che io non vedo un higher high, rispetto al settimanale, come visto in precedenza, per me questo si tratta di un ritracciamento, totalmente fisiologico, durante il movimento ribassista, quindi quei cosiddetti sell the rally, come si suol dire, è il contrario di buy the dip, per l'appunto, quando il mercato è bullish, e ogni tanto c'è un dip, e tutti vogliono fare appunto buy the dip, perché siamo in lungo trend, trend follower, lo stesso si fa ovviamente all'opposto, quindi in mercato bearish, si fa il sell the rally, quindi quando c'è un contromovimento, che arriva in una zona di resistenza notevole, si cerca l'opportunità di short, questo è il trading, diciamo trend follower. Comunque non per forza, come vi dicevo, devo aver ragione, quindi ovviamente ho previsto anche un'opportunità opposta, ok? Deve sempre essere presente un'opportunità opposta, quindi nel senso, se mi sbaglio, cosa faccio? Ovviamente metto uno stop loss, io ho messo il mio stop loss qua sui 6.900 e qualcosa, in modo che se il prezzo va a tracciare un higher high sul settimanale, io sono il primo a essere contento, sia chiaro, mi chiudo la posizione in perdita e andrò a caccia poi di posizioni long, nel caso in cui andremo davvero a tracciare, a chiudere la settimana con un higher high e poi un higher low, e quindi si riaprono scenari molto più belli, perché potrebbe ritornare davvero il bull market, potrebbe essere un primo segno di inversione di trend primario, cosa che è da tanto che non vediamo ormai, purtroppo, e quindi insomma lo short sarebbe invalidato e si aprirebbero scenari long, eventualmente anche sul medio-lungo periodo. Sarebbero ottime, ottimi, ottimi, ottimi momenti per entrare anche in ottica magari più di lungo termine. Ne riparleremo se ciò si verificherà. Io ho previsto anche un attenuante del rischio con una posizione long su Ethereum, che ho aperto, se vi ricordate, avevo frammentato l'apertura in quest'area e mi è passato soltanto il primo acquisto sui 158 dollari circa, e niente, ce l'ho aperto, lo tengo aperto, chiaramente come hedging, quindi nel caso in cui dovesse continuare il rally, diciamo così, probabilmente anche Ethereum seguirà, visto che è in condizioni abbastanza bullish, e attenuerò, diciamo, la perdita dovuta allo stop loss dello short su Bitcoin in questa maniera. Nel frattempo ho aperto, ho tenuto aperto anche lo short su Litecoin, che vi ricordo avevo aperto qui al retest dal basso di questo livello di resistenza flippata da supporto, e vediamo insomma, il mix delle posizioni che ho in mente è un po' questo. Quindi la lezione è non corriamo dietro a un treno che ci sembra che stia per partire, ma che potrebbe tranquillamente non partire mai, e anzi fregarci clamorosamente, quindi tutti che comprano il Golden Cross e poi invece il mercato dampa di nuovo, e noi ci continuiamo a dire maledizione neanche stavolta ho imparato la lezione, è meglio razionalizzare, quindi avere un quadro generale, farsi una propria idea, e seguire la propria strategia in maniera precisa, quindi senza farsi influenzare dal sentiment generale, che può essere spesso e volentieri fuorviante, perché è dettato, nella maggior parte dei casi, dall'emotività. Voi come vi state comportando? Avete aperto posizioni? Di che tipo? Insomma, ditemi la vostra nei commenti e discutiamone. Ciao a tutti!